allora ciao ragazzi benvenuti a questa buttata oggi assaggiavo le cose Halloween ora faccio vedere trolley sono occhi quindi speciale Halloween ora ele aprirà assaggeremo questo trolley ce la fai? ci vuole qualche? dai su senti che profumo niente sembra babble un po' gommoso mamma sicuramente avrò dei problemi dopo con con diabete intanto ele ci sta prendendo un un occhio provando tinta vediamo quante ore ci vuole prima che lo apre guarda tengo io a cimare si aspettate eccoci qua allora assaggio il primo è una specie cosa che vedete non so se si vede è un occhio goposo guarda che occhio buone buone ce la fai? ci vuole sempre ci vuole sempre un intervento ecco ho trovato anche un modo per aprire velocissimo eh ragazzi ci vuole una certa una certa bravura per queste cose c'è è fatta e ora l'altro che sarà l'ultimo immagino poi questa qua roba è proprio botte dolciastre vedete non so se si vede è fatto eh ma c'è il sole andiamo all'ombra ve lo faccio vedere allora siamo tornati ora andiamo all'ombra così vi posso far vedere che al sole non si vede un cazzo allora al sole vedete questo guardate che bell'occhio questo qua ce lo mangeremo è caramella di Halloween prima non si è visto e lo apri per favore rimani occupate della nostra assistente Claudio assaggio oggi speciale Halloween guardate l'occhio ha un retro gusto amaro un po' acidulo però cazzo che buoni quindi ragazzi promossi promossi alla grande ragazzi i biscotti e no biscotti caramelle gommose della Lidl allo è tutto per lo speciale Claudio e assaggia a prossimo puntale ciao